Prima sigaretta a Nassiria. Qui si può fumare. E qui no. Ma tu sei un civile. Sì. Cazzo ci fai qui? Sono venuto per girare un film. Che devi fare? Un film. Ma qua? In Iraq? Sì, qui. Perché non è tranquillo qui? Se sei ben armato è tutto tranquillo qui, no? Come se sei ben armato? Non è stato sperato un colpo ancora. E questa a te che te l'ha detto? In Italia. In Italia si dice... In Italia. Voi in Italia non sapete niente di quello che sta succedendo qua. La gente vuole la bistecca. Non vuole mica sapere come è stata macellata la mucca, no?